Salve a tutti e benvenuti in questo video dove vi farò vedere come ho fatto funzionare le frecce a led sulla mia macchina senza bisogno di installare resistenze. Infatti installando degli indicatori di direzione a led sulle macchine o sulle moto ciò che si ottiene normalmente è un lampeggio molto veloce causato dal bassissimo assorbimento di corrente dei led che non permette al relay meccanico che gestisce il lampeggio di avere il giusto tempo di accensione. Per risolvere è sufficiente creare delle resistenze come quelle che potete realizzare seguendo il mio tutorial che troverete in descrizione al video. Ma questo è un metodo che sprega veramente tanta energia elettrica e trova abbia poco senso con dei led il cui scopo principale è risparmiare energia. Quindi come ho risolto? Acquistando un relay elettronico. Questi relay infatti a differenza dei relay meccanici che sono tarati su un preciso assorbimento di corrente emettono un lampeggio indipendentemente dal consumo della lampadina e quindi possono essere usati liberamente con lampadine alogene o lampadine led. Sui veicoli più vecchi come per esempio il mio CBR 125R è la Miathos Prime, la sostituzione del relay è una cosa incredibilmente semplice e alla portata di chiunque con un minimo di manualità. Basta sfilare via il vecchio relay dal suo alloggiamento, installare il nuovo, tramite il pomello di regolazione impostare il tempo di lampeggio sul valore desiderato e il gioco è fatto. E sui veicoli moderni? Beh, qui il gioco si complica, ma il procedimento resta lo stesso. Bisognerà acquistare un relay elettronico per frecce con fili volanti, che potete acquistare dal link che troverete in descrizione al video insieme agli altri relay di questo tipo e cablarlo tra una linea a 12 volt sotto chiave e contatti in uscita dal devioluci. La procedura varia da veicolo a veicolo, ma lo schema elettrico resta sempre lo stesso. Su alcuni veicoli l'installazione sarà più complicata che su altri e non è esattamente una cosa alla portata di tutti. Se non siete pratici e non siete in grado di svolgere questa installazione in sicurezza, vi consiglio di rivolgervi a un esperto che sarà in grado di effettuare questa installazione in maniera corretta e sicura, senza danni per l'impianto elettrico, visto che in caso di collegamenti errati si potrebbero avere danni anche gravi. In ogni caso, per chi volesse studiarsi questi relay elettronici adattarli al proprio veicolo, questo è tutto ciò che c'è da sapere. Una soluzione semplice ed economica è un problema che spesso viene risolto nella maniera meno efficiente possibile. E te cosa ne pensi? Fammi sapere nei commenti se conoscevi questo tipo di relay o conoscevi solo la regolazione del lampeggio tramite resistenze. Se il video ti è piaciuto ricordati di lasciare un mi piace, ma soprattutto non dimenticarti di iscriverti al mio canale per stare sempre aggiornato sui prossimi video. Ciao a tutti!